Devono far votare anche malati. Queste le parole che sembrano inchiodare Corrado Gabriele. Attraverso tale intercettazione si rende sempre più plausibile l'ipotesi di voto di scambio e occupazione in tempi di campagna elettorale in cui l'ex assessore sembra essere pienamente coinvolto. Nuovi scenari si identificano a seguito della deposizione degli atti rinvenuti durante il riesame per l'udienza sulle 25 misure cautelari notificate ad esponenti dei disoccupati nell'ambito dell'indagine sui brosso. Il disegno sarebbe il solito, il voto di scambio, il sostegno elettorale e il lavoro che sarebbe stato assicurato a quella fascia di disoccupati maggiormente facenorosa. E sarebbe proprio l'ex assessore PD Gabriele ad avere il ruolo di stratega. Devono far votare anche malati come fecero per Gabriele. La suddetta intercettazione telefonica sembra svelare quindi appoggi elettorali assicurati a Gabriele, una consuetudine che viene ripresa anche per il caso brosso. I risultati delle intercettazioni mettono in luce il ruolo dell'ex assessore, confluito al nuovo partito socialista, che sarebbe stato capace di dirigere le fila di questa macchinosa tattica per attingere voti tra i disoccupati e farli registrare al suo stesso partito. Gabriele chiede a Rescigno, uno dei rappresentanti brosso, un elenco di nominativi che servono per quella cosa che lui deve fare per il PSI. Questo riportano gli atti. Nega fortemente l'ex assessore, anche se poi in un'ultima intercettazione così conclude. Ora ne arrestano e ci togliamo il pensiero.